Con Saveriano Infantino il discorso è un po' difficile da farsi, nel senso che ha lasciato una società e una squadra, ha trovato un'altra società, un'altra squadra e probabilmente a breve anche un nuovo campo di gioco. Te lo saresti mai aspettato? No, non mi sarei mai aspettato di trovare soprattutto un'altra società, perché la società di prima sembrava solida e resistente, quindi non mi aspettavo soprattutto questo cambiamento, però se l'hanno fatto sicuramente è per il bene del Teramo, per il bene della città, quindi ben venga. E adesso? Che futuro vedi per questa squadra? Perché cambierebbero anche i programmi, anzi cambiano i programmi. Sì, si sente nell'area, soprattutto un progetto ambizioso, un progetto a lunga durata, un progetto che ha messo un po' di entusiasmo in tutta la città, quindi penso che può fare solo bene e sicuramente può portare ancora gente al campo in più rispetto all'anno scorso. E a un giocatore importante, perché lo sei un giocatore importante di questa squadra, misurarsi e confrontarsi con giocatori altrettanto validi e altrettanto importanti, è uno sprono in più o un motivo di titubanza? No, 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 penso che per qualsiasi giocatore in più al mondo è uno sprono e ti dà qualcosa in più dentro, perché confrontarsi con altri giocatori forti e diciamo al tuo livello oppure qualcosa in più ti fa sicuramente anche e soprattutto migliorare e dare ancora di più. Saveriano Infantino, il Teramo ti deve un grazie perché è innegabile, i tuoi nove gol dello scorso anno sono stati determinanti per la salvezza, è altrettanto vero che Infantino deve un grazie al Teramo perché secondo noi si è rilanciato la grandissima a questi livelli? Sì, 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 io come ho sempre detto venivo da due anni di infortuni, prima dei due anni avevo fatto però 21 gol tra Cacare e Matera, quindi è stato due anni fa, tre anni fa, però avevo avuto anche due stagioni pieni di infortuni, avevo giocato poco e segnato poco, quindi devo dire sicuramente grazie al Teramo, grazie anche al mister, al direttore Federico e al presidente che mi hanno portato qui a Teramo e mi hanno dato il modo di esprimermi al massimo e di rendere al massimo, quindi sicuramente devo io un grazie a loro e poi il Teramo un grazie a me perché io ho cercato di fare il mio dovere e di impegnarmi sempre tutte le partite. Girone C e non Girone B? Girone C e non Girone B sono tutti e due gironi molto forti con forse 6-7 squadre a vincere, forse nel Girone C però c'è qualche piazza un po' più calda con tanti tifosi e forse può essere anche da stimolo per noi perché è sempre bello giocare con tanti tifosi.